I think it's time to talk Arriva una vittoria larga, importante, però era altrettanto importante reagire dopo la sconfitta di Molfetta Buongiorno a tutti, grande prestazione delle ragazze Ovviamente sembra che sia stata una partita facile, ma non l'è stata proprio Perché in questo sport bisogna avere molta concentrazione e molta applicazione Quindi le ragazze sono state sempre concentrate dall'inizio alla fine Grande il mister anche che le ha messe bene in campo e quindi tutto positivo oggi Positivo secondo me anche il contributo delle ragazze più giovani che hanno avuto spazio Sono riuscite anche a ritagliarsi delle occasioni importanti Sono ragazze che provengono dal nostro vivaio e si sono inserite benissimo nel gruppo Si trovano molto bene con le altre e quindi tutto bene oggi Domenica c'è la sfida contro il Mola, non bisogna lasciare nessun punto indietro per cercare di raggiungere il primo posto Assolutamente, è l'obiettivo della società, è l'obiettivo delle ragazze, del mister Vogliamo fare il salto in categoria, quindi sempre concentrati al 100% Perché è una cosa che vogliamo, la vogliamo col cuore e la conquisteremo sul campo Arriva una vittoria larga in cui hai dato spazio a tutte le calcettiste a tua disposizione Credo sia uno dei lati positivi di questa domenica Sì, è stato bellissimo, è stato bello vedere anche l'esordio di due giocatrici provenienti dal vivaio Vedere la loro dedizione, il loro impegno, è stato bellissimo Non ho giocato tutte e questo è un bel motivo d'orgoglio per il presidente, per Altamura, è davvero bello Era importante anche in termini di classifica prendere i primi tre punti di questo minicampionato Perché c'è la Noxmolfetta al comando e non bisogna più perdere i punti per cercare di rientrare Esatto, lo stiamo dicendo tutti, in questo campionato non si può sbagliare Quindi ogni partita bisogna dare il massimo proprio per evitare di commettere altri errori Ne abbiamo commesso uno grande e adesso dobbiamo continuare a macinare i punti uno dietro l'altro Domenica c'è il Mola, per il discorso ovviamente legato alla classifica non bisogna mollare la concentrazione Come va preparata la partita in vista di domenica, considerato questo anche largo vantaggio che avete acquisito contro il Massafra? Esattamente come l'abbiamo preparata questa settimana Dobbiamo pensare a noi e non alla squadra che abbiamo di fronte Quindi dobbiamo colmare tutte le nostre lacune e migliorare i nostri punti di forza I think it's time to talk Ciao